Come in Romania, anche in Polonia, il premier britannico David Cameron incassa un tiepido sostegno alle pretese del suo governo di modificare le relazioni con l'Unione Europea. La premier polacca, Beata Sciduo, ha affermato che al momento non vi è alcun accordo sul progetto di Londra di limitare l'accesso al welfare ai cittadini comunitari nel Regno Unito. Entrambi, ha detto Cameron, vogliamo un ruolo maggiore per i parlamenti nazionali e l'accettazione è che un rafforzamento dell'Unione non è l'obiettivo di tutti i suoi membri. Entrambi vogliamo ridefinire i rapporti tra i paesi dell'Eurozona e quelli che non ne fanno parte. Entrambi pensiamo che vada fatto di più per favorire crescita e creazione di posti di lavoro. Prima di Varsavia, il premier britannico era in visita a Bucharest, dove ha onorato le 60 vittime del ruogo del Collective. Un tour nell'Europa dell'Est che punta a ottenere il più ampio consenso politico in vista del referendum sulla permanenza del Regno Unito nell'Unione Europea a fine 2017.